All'inizio la prima categoria a giugno, in pedale, l'inforzamento di FNC, scendeva la prima categoria a giugno. All'inizio la prima categoria a giugno, in pedale, l'inforzamento di FNC, scendeva la prima categoria a giugno. La prima categoria a giugno, in pedale, l'inforzamento di FNC, scendeva la prima categoria a giugno. La prima categoria a giugno, in pedale, l'inforzamento di FNC.